Nella vita quotidiana certamente si può controllare e disinquinare il linguaggio. Noi parliamo una lingua tutta piena di cose belliche, non ce ne accorgiamo nemmeno. Una piccola attenzione per bandire tattica, strategia, schieramento, bombardare, scendere in campo, duellare, le usiamo ogni giorno e sostituirle invece con altro tessuto linguistico è già una primissima cosa che ciascuno può fare individualmente giorno per giorno a casa sua e parlando con le altre persone e anche naturalmente ridendo chi invece continua a fare il tattico, lo stratega, lo schierato di qua e di là.